Ade. Ho letto che Ade, il dio greco che regnava nell'oltretomba, identificato per estensione con l'inferno stesso, significa l'invisibile. Era assistito da numerosi demoni e non permetteva a nessuno dei suoi sudditi di ritornare tra i viventi. Come si fa a credere a queste leggende? Commento. Si è costretti a crederci quando non si ha l'evoluzione sufficiente per scoprire maggiori risposte in se stessi. Allora si delega la propria evoluzione alle leggende.